Siamo nel padiglione nazionale del Grenada alla Biennale di Venezia 2022, nella sede del Giardino Bianco Art Space. Il curatore della mostra è Daniele Radini Tedeschi, il commissario Susan Mainz. Gli artisti in mostra riflettono su due filoni principali. Il primo è quello dell'integrazione, a partire dal rituale dello Shakespeare Mass. Il secondo filone è una riflessione sulla riscoperta di se stessi in relazione con gli altri, tenendo a mente gli insegnamenti di Édouard Glissant, il quale rivendicava il diritto all'opacità, ovvero il diritto a non comprendere totalmente l'altro e a non essere totalmente compresi. Gli artisti in mostra sono il Cypher Art Collective of Grenada, formato da Oliver Benoit, Billy Gerard Frank, Ian Friday, Asher Mainz, Susan Mainz, Angus Martin, Samuel Ogilvie. La partecipazione nazionale di Giancarlo Flati, Anna Maria Ligotti, Nino Perrone, Rossella Pezzino De Geronimo, Maria Luisa Tadei e l'Identity Collective, formato da Ezio Bagliano, Cristina Corvino, Franca D'Alfonso, Elia Inderle, Fernando Mangone, Peter Nussbaum, Fedora Spinelli e Armando Velardo. La mostra durerà fino al 27 novembre.